Sale la febbre da B. È iniziata questa mattina la prevendita dei biglietti per la partita che potrebbe riportare i colori bianco-rossi nella seconda serie calcistica e i piecentini non si sono fatti attendere. Quest'anno è l'anno che si è andato tutto bene, penso che sia l'anno buono. Andrete in auto o in pullman? Pullman. Sono arrivato qualche minuto fa, ho sentito che c'è qualcuno già da un'oretta, un'oretta e mezza, quindi speriamo che si sblocchi un attimino il sistema così riusciamo a prendere. Prima ancora dell'apertura ufficiale prevista per le 12, la fila di tifosi ha iniziato a sostare davanti alla tabaccheria Carmagnola di Piazza Cavalli per accapparrarsi il biglietto del settore ospiti per la gara Siena-Piacenza in programma sabato prossimo alle 16.30 allo stadio Artemio Franchi di Siena valevole per la diciannovesima giornata di ritorno del campionato di Serie C ma soprattutto possibile lascia passare per la categoria superiore. Restiamo scaramantici perché il Siena è una squadretta che a volte fa delle giocate fenomenali, a volte bisogna vedere. Il prezzo del settore ospiti è di 12 euro e i biglietti si potranno acquistare fino alle 19 di venerdì 3 maggio. Una lunga attesa ma ne vale la pena? Speriamo, speriamo, speriamo tanto. Sono pochi minuti quelli che ci separano dalla Serie B, quindi crociamo le dita e speriamo veramente che ne valga la pena.